Siamo al Pallabursi, sentiamo il parere del capitano della Nazionale Maione dopo questo incontro infuocato contro i Carpi. Maione, anche quest'anno in finale? Sì, è stata veramente dura, pensavo sinceramente una partita un po' più facile, però tutte le volte che veniamo qua dobbiamo combattere fino all'ultimo secondo e anche oggi è stato così. Devo fare veramente un grande applauso alla mia squadra perché abbiamo dimostrato di avere cuore, carattere, ci meritavamo questa finale, ce la siamo andati a prendere. Adesso riposiamo un paio di giorni e poi dobbiamo subito concentrarci per la finale perché credo che sarà ancora molto più difficile di questa partita di oggi. Bolzano o Romagna? Credo Bolzano, poi non so, adesso vedremo tutto nello spogliatoio, ma se Romagna ha vinto, ha fatto un miracolo, credo Bolzano. Con l'Under 20 andate a Prato per i nazionali? Penso di no perché abbiamo avuto un paio di defezioni, dei ragazzi hanno avuto un paio di infortuni e quindi credo che non rischieremo di andare a Prato con due o tre elementi principali della squadra in meno. Però la saluzione sta valutando, ancora non abbiamo preso la decisione, speriamo, ma se non sarà quest'anno sarà per il prossimo. Ora sentiamo i pareri di esperti sulla partita. Ne ce l'abbiamo messa tutta, loro sono stati sempre lì attaccati, non hanno mai mollato. Cosa dire? Abbiamo sbagliato la prima partita, abbiamo sbagliato la partita d'andata e oggi si è visto. Il prossimo anno non lo so, vediamo, parlate. Claudio, vieni qua! Mi ha chiesto una cosa. Per il prossimo anno come si è presa? La squadra più forte, la squadra più forte, che rimangono i punti principali segnalati dall'allenatore. Non posso dire altro, basta. Per il prossimo anno non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so.